Ciao da Asim! Questa storia delle scommesse non lascia soddisfatti, non c'è abbastanza chiarezza. Proviamo a fare un po' di ragionamenti insieme su tutto, su Corona, su quello che ha detto, su quello che non ha detto, sulle reazioni di alcuni, ma non di tutti, sulle dichiarazioni di Fagioli, sulle posizioni dell'Allegrentus, sulla posizione del Milan e su Tonali, soprattutto a questo punto su Tonali, ma in realtà non c'è un aspetto maggiormente rilevante, è un po' tutto insieme, è un po' tutto il contesto. Poi dovremmo parlare anche della posizione di Gravina, con qualcuno nel governo che chiede le sue dimissioni e la levata di Scudi in sua difesa da parte di Malagò. C'è troppo, c'è troppo di poco chiaro, ci sono troppe cose che non tornano. Per cui, senza accusare nessuno, senza fare dietrologia, senza andare oltre le semplici ipotesi, proviamo appunto a fare dei ragionamenti, da persone intelligenti, che non si fermano alla versione che viene data solo perché ci si deve fidare di quella versione. Se quella versione fa acqua da tutte le parti, o non è sufficientemente chiara, soddisfacente, convincente, sarà pur lecito fare dei ragionamenti. È difficile da dove partire? Partirei da Corona, perché secondo me la chiave per le interpretazioni di tutta quanta questa vicenda sta lì. Corona comincia a parlare, dà delle informazioni, le prime delle quali si rivelano subito reali, fondate. Quando Corona parla di fagioli in estate, pochi gli danno ascolto, pochi gli danno credito. Perché, diciamo la verità, Corona era sparito dalla circolazione mediatica da parecchio tempo almeno per quella che è la mia percezione. E quindi si stava riabilitando, stava tornando alla ribalta. Sappiamo quelli che sono i suoi trascorsi. Parla Corona. Ha detto una cosa fastidiosa. Cioè un calciatore professionista della Juventus ha la ludopatia e ha un sacco di debiti. Ma una cosa sulla quale si poteva sulle prime sorvolare. Poi vengono fuori gli altri nomi. Ecco, la situazione di Zagnolo è ancora da capire. Perché Zagnolo non ha minacciato querele, non ha fatto dei chiarimenti ampi e definitivi e convincenti. Diciamo che è un po' borderline, ma sostiene e ritiene comunque di non aver violato nessuna norma del codice di giustizia sportiva. Per ricordiamo che la violazione possibile, l'unica, consiste solo nelle scommesse su risultati di partite di calcio FGC, UEFA, FIFA. Quindi anche le amichevoli in realtà, perché sono comunque organizzate in quell'ambito. E attenzione, risultati, non i risultati. Perché se scommetti su un'ammunizione stai violando comunque la norma. Se scommetti su un calcio d'angolo stai violando la norma. Tutto quello che è quantificabile, calcolabile e scommessibile, si può dire, cioè tutto ciò su cui si può scommettere, costituisce risultato di partite di calcio FGC, UEFA, FIFA, su cui piattaforme legali o illegali è indifferente, il tesserato non può scommettere. Zagnolo ritiene di non aver violato questa norma. Fagioli, come sappiamo, ha confessato, si è autodenunciato e ha anche preso la squalifica con il patteggiamento. Tonali ha confessato, si è autodenunciato, ha parlato ore davanti ai PM di Torino, poi ha parlato anche con Kine e oggi vengono fuori le prime ipotesi. Ha confermato di aver scommesso sia sul Milan che sul Brescia, evidentemente anche quando militava al Brescia, però sempre a vincere, però sempre a vincere. Cioè non ha mai scommesso, non avrebbe mai scommesso su un evento negativo delle squadre in cui militava. Cosa cambia? Cambia che se tu decidi di perdere, cioè di far prendere gol alla tua squadra, è la cosa più schifosa che ci possa essere nello sport, è la cosa più schifosa che ci possa essere nello sport, e se questa cosa vi fa schifo, abbandonatevi allo schifo, perché è naturale che tutta sta roba vi faccia schifo, e non è naturale che giriamo di nuovo la testa dall'altra parte e facciamo finta di nulla, perché poveri ragazzi sono forti, ci servono, ma se scommetti a vincere è più difficile, perché diciamo che ti autostimoli, ti dai uno stimolo in più a vincere, perché di fatto la vittoria per un atleta non è necessariamente monetizzabile se non c'è un bonus legato al successo, altrimenti si tratta solo, tra virgolette, dei valori dello sport, e cioè competere per vincere, per essere migliori, per dare il massimo. Ma tornando a Corona, quando ha iniziato a parlare, ripeto, si è trovato tutto, perché Fagioli era già indagato da maggio, era già indagato da maggio, si è autodenunciato a quanto pare il 30 agosto, non è stata ben chiarita questa cosa, Tonali e Zaniolo erano già indagati, erano già indagati, quando Corona fa i loro nomi viene sentito dalla polizia a Milano, sempre nell'ambito della stessa inchiesta, e quasi contestualmente la polizia va a Coverciano, dove ci sono Tonali e Zaniolo, e gli notifica l'indagine, ma l'indagine già c'era. Questo per dire che cosa? Che Corona non ha sbagliato tutto. Ha sbagliato alcune cose. Che cosa ha sbagliato? Intanto aveva preannunciato che avrebbe fatto nomi che non ha fatto, aveva preannunciato una quantità di nomi che non ha minimamente sfiorato, e poi alcuni dei nomi che ha fatto, anche senza delle accuse precise, si sono rivelati fin qui falsi, e abbiamo avuto le reazioni, il Sharawi, Casale, la situazione un po' incerta di Zaleschi, lasciamo adesso da parte tutte quelle zone d'ombra, però le reazioni immediate, per esempio, di Casale, ci dicono che c'è chi ha reagito, anche Borucci, immediatamente minacciando querele, e chi non solo non ha reagito immediatamente, ma non ha risposto proprio, e non ha minacciato nessuna contrazione. Ci arriviamo dopo. Ma non è soltanto quello che Corona doveva dire e poi non ha detto, sono anche le imprecisioni, che sono sospette. Perché io davvero non credo, per tutto quello che possiamo pensare di Corona, ma io non credo che Fabrizio Corona avrebbe deciso di, ok, lanciare il suo sito, la sua piattaforma, ok, rilanciarsi dal punto di vista professionale, ok, monetizzare, perché è andato a prendere soldi dalla Rai e da altri, cioè vendere quello che lui racconta, come è normale che sia, perché è sempre funzionato così, non c'è da scandalizzarsi. Cioè, le esclusive si comprano, si vendono e si comprano. Ma tutto questo, correndo il rischio di farsi prendere in giro da chiunque sui social, perché sbaglia a dire che la Juve si allena a V9, non è vero? Sbaglia due volte la data del ritiro, prima agosto, sbaglia anche il luogo della tournée, dice in Giappone, poi dice negli Stati Uniti, una serie di, oppure questa storia del video di questi tre giocatori che palleggiano, facile la ricostruzione, basta andare a vedere quando mai questi tre giocatori, tra cui i gatti, sono stati convocati insieme in nazionale, non si trova mai un momento in cui sono stati convocati insieme, quindi sembra impensabile che questi tre siano stati visti a palleggiare e a parlare delle loro puntate. Video che fin qui non abbiamo visto. Perché tutte queste incongruenze? Perché questi errori banali? Errori banali, reiterati e ripetuti. Allora, c'è l'ipotesi che Corona stia sbagliando perché si sbaglia, perché su una parte della storia non conosce la verità e quindi sta tirando a indovinare, sta ingigantendo la cosa, ma quanto è credibile questa ricostruzione? Quanto è più credibile invece che Corona sa bene tutto perché ha già dimostrato di sapere bene tutto su determinati aspetti, ma su altri è un po' è un po' claudicante, è incespica, è un po' impreciso volutamente? Se Corona sta sbagliando volutamente, cioè sta in qualche modo sporcando il suo racconto, non è per andarci a rimettere, evidentemente, non è per fare una figuraccia, chi farebbe una figuraccia di proposito, ma è per qualcos'altro, perché forse, e anche questa storia, sono andato alla Rai e mi hanno censurato, poi ne parla striscia, ma comunque non viene fuori niente di nuovo, evidentemente, Corona non sta vendendo solo quello che racconta, ma anche quello che non dice, sta vendendo il suo silenzio, possiamo immaginare che Corona sta vendendo anche il suo silenzio, che va benissimo, anche quello lo può fare, io non giudico quello che sta facendo Fabrizio Corona, sia chiaro, sono cercato solo di capire che cosa sta succedendo, il silenzio nei confronti di chi? Chi fa parte di questa storia non è stato ancora nominato, non è stato ancora menzionato, e forse non verrà fuori, perché che qualcuno non verrà fuori è abbastanza evidente anche dalle reazioni degli altri, Gravina che viene, che viene, a cui viene richiesto di dimettersi, che viene spinto alle dimissioni dal governo, ma la GOG fa quadrato, ora Gravina avrebbe dovuto dimettersi da mesi, se non anni, proprio per questo fatto qui, magari, magari meno, infatti gli hanno dato l'assist per poter dire mi darebbero la colpa anche del buco dell'ozono, cioè, lo hanno anche fatto martire, eh, ma è Gravina che però le responsabilità inevitabilmente ce le ha, perché, quantomeno, e anche se non le avesse dirette, è una figuraccia, cioè, stiamo parlando del calcio italiano che, attenzione signori, non è che c'è soltanto qualcuno che è impazzito e ha cominciato a scommettere sulle partite, qui c'è il rischio di partite truccate di partite truccate perché ci sono due aspetti da considerare, Fagioli è pieno di debiti, era pieno di debiti ed è sempre stato pieno di debiti, questo che cosa ci dice? Che molto probabilmente Fagioli scommetteva da fesso, passatemi il termine, cioè, scommetteva buttando letteralmente soldi senza neanche approfittare della sua posizione per una strategia vincente, come approfitti della tua posizione per una strategia vincente? Facile, quantomeno in seconda battuta, dopo che hai iniziato a scommettere e ti sei riempito di debiti, sai cosa fai? Quello che assolutamente è deprecabile, ma sbagliato per sbagliato, almeno sbagli a tuo vantaggio, io faccio un ragionamento diciamo di spirito di sopravvivenza di Nicolo Fagioli, e cioè, scommetti sulla tua ammunizione, vai in campo e ti fai ammonire. Lì, se tu punti 500.000 euro, ipoteticamente, quanto ci vai? Vai a ripianare i debiti con una sola ammunizione, con una ammunizione ti ripaghi tutti i debiti che hai ed esci dal giro e hai fatto. Dopodiché, però, c'è la partita alterata, ma appunto, per Fagioli non possiamo parlare di partite alterate, per Fagioli non possiamo parlare di partite alterate e di conseguenza per la Juventus, che poi comunque i club probabilmente non c'entrano, sono iniziative individuali, sebbene di più giocatori, iniziative individuali e plurime, cioè multiple, ma Fagioli non lo possiamo pensare, perché Fagioli aveva debiti e quindi, cioè, chi rimane con tutti quei debiti, 3 milioni di euro, se scommette sulla vittoria facile, cioè su una cosa che è lui a determinare, mentre per quanto riguarda Tonali si apprende che non aveva debiti, Tonali non ha debiti, ma se Tonali scommetteva già dal Brescia e si parla di una conoscenza antica, risalente, tra Fagioli e Tonali già da Piacenza, parliamo di molti anni fa, e Fagioli dice in under 21 o in under 19 scommettono in tanti, allora, Tonali non è uno che ha scommesso poco, che poi qui si fa l'esempio del calciatore della Premier League che con centinaia di scommesse si è fatto 8 mesi di squalifica, ma perché Fagioli e Tonali quante ne hanno fatte di scommesse? 2? 10? Anche loro ne hanno fatte centinaia, forse migliaia, Fagioli ha detto che a settembre 2022, se non ricordo male, si metteva davanti alla TV e scommetteva su tutte le partite in corso di tutta la serie C, di tutta la serie B, fatelo una volta a settimana, due volte a settimana, vedete un po', in un mese già quante scommesse fai sul calcio, al di là poi della tua squadra o non la tua squadra, quindi, anche qui, a parte che poi quello che succede in Inghilterra sta sotto le regole inglesi, che non sono le regole della FIGC, e possono essere anche radicalmente diverse, anche per quanto riguarda la pena, e quello, vabbè, lasciamolo stare, perché è un altro discorso, ma è un altro discorso che viene introdotto per fare cosa? Per salvare il salvabile, per giustificare l'ingiustificabile, anzi, per salvare il non salvabile, per salvare lo schifo. Quindi, che cosa sto dicendo? Che Tonali sicuramente ha alterato le partite? No, ma se c'è un sospetto di partite alterate, ripeto, anche solo puntare sulla propria munizione e farsi ammonire significa alterare il risultato di una partita, beh, questo rischio è molto più alto per Tonali che non per Fagioli. Ma dobbiamo tornare a Fagioli, poi ovviamente per quanto riguarda le partite alterate si dovrà fare un'indagine, adesso per Tonali si parla di 16 mesi con il patteggiamento perché ha scommesso anche sul Milan che poi, guardate che non cambia nulla, eh, guardate che non cambia nulla, più 16 mesi di prescrizioni alternative. Quindi, un'abbordata, poi qui vorrei sentire gli giuventini, qui vorrei sempre sentire gli giuventini, candidi sempre, che Corona è impresentabile per il suo passato. La Juventus invece, nonostante il suo passato, è presentabilissima e non parlo di Calciopoli, parlo del passato recente, parlo di tutte le inchieste in cui la Juventus è stata coinvolta o anche direttamente indagata, imputata con i dirigenti e quant'altro. La Juventus invece è presentabilissima e vorrei sentire gli giuventini sul fatto che Fagioli si è preso sette mesi, cioè a giugno torna in campo, la Juventus decide di non rescindere il contratto, di non cacciarlo e anche di questo dobbiamo parlare, mentre Tonali dovrebbe prendersi di più perché? Perché? Io non so, adesso non è venuto fuori quante scommesse sul calcio ha fatto Fagioli e quante Tonali, ma guardate che scommettere sulla propria squadra dal punto di vista giuridico è irrilevante, è indifferente perché l'articolo 24 dice che se tu scommetti sulle partite, su risultati di partite, ti becchi minimo tre anni, punto. scommettere sulla propria squadra che cos'è? È un aggravante? Vogliamo considerarla? Ok, consideriamo un aggravante, quindi gli si danno meno attenuanti a Tonali, ma se Tonali patteggia come Fagioli, entrambi dovrebbero scendere a un anno e mezzo, entrambi dovrebbero scendere a un anno e mezzo e 16 mesi è poco meno di un anno e mezzo, ma più 16 mesi sono 32 mesi, quando? Tre anni sono 36, quindi quanto prende Tonali anche se poi una metà della pena è con prescrizioni alternative, quindi nulla, quanto prende? Prende quasi il massimo, cioè prende quasi il minimo senza patteggiamento, tre anni, e com'è questa sperequazione? Com'è possibile? Perché ha scommesso sulla propria squadra? Non è un reato a parte, non è un illecito a parte, l'illecito a parte è la combine, è la partita truccata, ma allora stiamo dicendo che Tonali ha truccato le partite, perché se Tonali ha truccato le partite è proprio un'altra cosa, parliamo di illecito sportivo, siamo fuori da questa storia, è un altro discorso, mentre se siamo sempre nell'articolo 24, che cambia? Su quale squadra ha scommesso Tonali? Cambia nulla. E allora anche questa mossa andrebbe giustificata, andrebbe spiegata, andrebbe spiegata anche da Gravina, perché adesso si dice questa è la linea Gravina, diamo anche le pene alternative, gli adempimenti alternativi, prescrizioni alternative, perché così riabilitiamo e facciamo anche proselitismo, facciamo anche sensibilizzazione, eh? A parte che mi sembra, mi sembra che ci siano due società, due SRL, due SRL della provincia di Livorno, che mi sembra che nella descrizione dell'attività abbiano anche la possibilità di organizzare eventi anche con dei testimonial, specificamente del mondo dello sport e dello spettacolo, proprio per sensibilizzare all'importanza dello sport nella crescita dei ragazzi e dei valori dello sport, ma questo lo lasciamo da parte, c'ho finta che non lo sappiamo, c'ho finta che non lo sappiamo, però ecco, da chi nasce questa storia di fare le prescrizioni alternative per commutare una parte della sanzione, che però, ecco, perlomeno Tonali si potrebbe fare 16 mesi di squalifica, cioè più di un anno, e rischia tanto anche da parte del Newcastle, che l'ha appena pagato un sacco di soldi e dice scusa un attimo, ma perché ti devo tenere? Mentre la Juventus che ha cresciuto Fagioli e magari ha molte più responsabilità morali su questo disturbo di Fagioli, ammesso che sia veramente ludopatico e che sia quello il problema, rispetto al Newcastle non lo caccia e se lo tiene, e se lo tiene tanto sono 7 mesi, qual è il danno alla Juventus e qual è il danno al Newcastle? Qual è il danno alla Juventus? E sarà che forse proprio perché Torani tanto si è andato in Inghilterra quindi non si va a danneggiare nessuna squadra italiana con la sua squalifica che gli danno una squalifica più lunga? sarà anche per questo sto maliziando ma ripeto come vedete le questioni sono tante dobbiamo tornare a Fagioli perché dobbiamo tornare a questa storia di gatti e degli orologi che non sono non sono gli animali e l'oggetto cioè Federico, gatti e gli orologi dunque nella deposizione a Chinè come riportata da Tutto Sport e non solo Fagioli dice io utilizzavo le scambodacce degli orologi perché dovevo saldare sti debiti siccome sono illegali non è che potevo prendere e fare un bonifico o andare a prelevare innocenti somme da versare in contanti perché sarei stato scoperto molto più facilmente nella situazione e quindi andavo a comprare gli orologi in gioielleria orologi ovviamente da migliaia e decine di migliaia di euro e poi o gli riportavo a sta gente oppure gli dicevo vattela a prendere nel negozio sta già pagato e quindi lo lasciava lì ora chiaramente uno si insospettisce volendo anche sul fatto che un calciatore per quanto un calciatore possa comprare tutti questi orologi ma la storia l'avete capita qual è? lui ha un debito di 40.000 euro con gatti dichiara di avere un debito di 40.000 euro con gatti e non so perché lo dichiari a questo punto perché era una cosa tra di loro ma magari evidentemente è stato costretto a dirlo davanti ai giudici e lì non poteva davanti ai PM e lì non poteva esimersi perché a un certo punto ha detto Federico potresti comprare tu questo orologio che serve a me perché mia madre mi ha bloccato i conti o comunque mi sono stati anzi le carte o comunque mi sono state bloccate le carte cioè voi lo fareste una cosa del genere cioè mettetemi nei panni di Federico Gatti dice ok Nicolò io non ho problemi adesso a tirar fuori i 40.000 euro lo sai insomma gli stipendi bene o male sappiamo quanto guadagniamo tu guadagni un po' più di me vado a occhio mi pare che fagioli un po' più di gatti ma più o meno diciamo che siamo lì diciamo che sono sono diventati amici hanno un ottimo rapporto ma spiegami una cosa intanto sto orologio che ci devi fare secondo ti hanno bloccato le carte perché non vai a fartele sbloccare se te le ha bloccate tua madre ma tu non sei un maggiorenne professionista con delle carte collegate a un conto su cui arrivano tra l'altro arrivano gli stipendi della Juventus cioè sta storia è un po' strana com'è che devo pagarti io te li do pure ma perché e il mese successivo passa un mese Fagioli percepisce un altro stipendio ancora non ha sbloccato le carte nessuno si insospettisce Gatti non denuncia nulla di quanto è vecchia sta storia da quanto tempo Gatti aveva l'obbligo a questo punto di intuire perché è impensabile e allora che cosa dobbiamo pensare che questo acquisto fatto da Gatti ammesso che sia avvenuto e questo debito di Fagioli con Gatti è per qualche altra cosa che si sapeva che erano debiti di gioco perché questa storia di Gatti davvero non sta in piedi ora questa più o meno è tutta la situazione aggiungo due cose una è quella sul rapporto tra l'Allegrentus e Fagioli dice non verrà cacciato perché adesso la Juventus starà vicina a Fagioli intanto doveva stargli vicino molto prima accorgendosi di tutto questo e io non ci credo mi dispiace ma non mi fate fesso io non ci credo che nessuno sapesse nulla non ci credo perché vista la mole di scommesse dichiarata da Fagioli qualcuno doveva accorgersene e indirettamente anche all'interno dell'Allegrentus premesso che era venuto fuori che un membro dello staff di Allegri sapesse del vizio non si è mai saputo chi è stato dichiarato totalmente strano ai fatti Allegri senza avere approfondito così a prescindere e la cosa è stata non dico insabbiata perché non mi piace anche se parlando di corona di insabbiamento dovremmo parlare concordato eventualmente ma è stata quantomeno emarginata e dimenticata io non ci credo che nessuno sapesse nulla cortesemente lasciatemi libero di non credere che nessuno sapesse nulla poi se ci sono state delle responsabilità in termini di codice di giustizia sportiva non lo so ma bisognerebbe indagare ma la Juventus Allegrentus che fa con Fagioli cosa deve fare con Fagioli ieri si è allenato agli ordini di Massimiliano Allegri fantastico fantastico a parte le battute che possiamo fare sul tipo di allenamento che abbiano fatto ma perché dovrebbe rimanere Fagioli e lo sapete che io sono un Fagioliano antichissimo per me Nicolò Fagioli è un grandissimo calciatore da sempre e nel 2021 più di due anni fa in estate dicevo non voglio Locatelli non buttate soldi per Locatelli c'è Fagioli che è fortissimo fiducia in Nicolò Fagioli titolare regista centrocampo e invece fu mandato alla Cremonese quindi a me non si può certo dire che odio Fagioli per cui se dico che Fagioli andrebbe mandato via che bisognerebbe risolvere il contratto di Fagioli così come va mandato via Pogba per gli stessi motivi per una cosa indegna anzi se tanto volete saperlo quello che ha fatto Fagioli è molto più grave di quello che ha fatto Pogba è molto più grave perché il doping ti può anche sfuggire per una leggerezza non te ne accorgi c'è una contaminazione e lo fai magari una volta quando tra l'altro manco devi giocare ma le scommesse seriali sulle partite di calcio sapendo che sono una violazione del codice giustizia sportiva al di là dei discorsi morali sono una cosa gravissima e quindi perché la Juventus non rescinde il contratto di Fagioli perché perché gli deve stare vicino perché è pieno di debiti mi dispiace se è pieno di debiti sono problemi tuoi a parte che questi 3 milioni ha detto che gran parte sono con queste società illegali discommesse illegali e quindi non è neanche obbligato a saldarli quindi chi se ne frega dei debiti che ha no la società gli starà vicino sapete perché la società gli starà vicino o comunque quale sarà la conseguenza logica di tutto questo che si va a creare l'ennesima sacca di impunità all'interno dell'allegrentus così che la prossima volta che qualcuno fa qualcosa di squallido potranno dire sì però noi Fagioli non l'abbiamo cacciato via quindi non cacciamo via neanche quest'altro invece se tu cacci via Fagioli come cacci via Pogba metti a zitt tutti quanti a sedere zittisci tutti metti tutti in allarme e in avvertimento nessuno osi più fare una cosa del genere perché dalla Juventus viene sbattuto fuori e così anche tu tu come società non ti costituisci più alibi per la prossima volta di poter dire sì ma a lui non l'abbiamo cacciato quindi anche questa volta non lo cacciamo quindi sarebbe importante mandare via Fagioli sarebbe importante cacciarlo invece come è importante cacciare Pogba perché altrimenti questa continua ad essere ma lo dico agli juventini io non lo sono più il juventino deviato questa continua ad essere la società dell'impunità come è successo con il patteggiamento sulla manovra stipendi Fagioli è impunito è punito in minima parte la sanzione che ha preso con l'impatteggiamento a parte il fatto e lo dovevo dire prima che sto patteggiamento ma dove sta scritto che bisogna accettarlo non è obbligatorio accettare il patteggiamento anzi il codice dice che se la pena non viene ritenuta congrua o le garanzie non sono congrue non si accetta il patteggiamento si va a processo no mi dispiace niente sconti parti da tre anni se ti riconosciamo delle attenuanti te ne fai due e mezzo magari due esagerando ti togliamo un terzo della pena ma serio fatto bene non in questo modo non all'acqua di rose il patteggiamento non mi complica io propongo il patteggiamento e la procura dall'altra parte deve accettare per forza non è così la FGC deve accettare per forza non è così quindi è una scelta politica che stanno facendo è una scelta politica e passiamo allora all'ultimo argomento e cioè che per quanto mi riguarda questa è una storia molto più profonda molto più grave ci sono molti più calciatori che scommettono da molto tempo lo sanno praticamente tutti ma il movimento sta reagendo come al solito con gli anticorpi per autoproteggersi per proteggere se stesso come è successo anche con la Juventus perché la cosa grave attenzione che è sfuggita il patteggiamento sulla manovra stipendi le partnership con i club le partnership con i procuratori andava rifiutato non perché la Juventus andasse punita pesantemente ma perché doveva esserci un processo sportivo che portasse alla verifica dei fatti è stata coperta con il silenzio con il patteggiamento tutta la verifica dei fatti su quello che veramente succedeva e lì non era coinvolta solo l'Alegrentus c'erano altri club c'erano i procuratori e c'erano i procuratori due volte per le partnership con i procuratori con il rischio di fatturazioni false e c'erano i procuratori perché avevano consigliato o comunque non avevano sconsigliato o avevano acconsentito a che i loro assistiti vergognosamente violassero il codice di giustizia sportiva firmando i patti sugli stipendi per ben due annualità perché quelle rinunce agli stipendi con le reintegre erano irregolari erano amministrativamente illecite per il codice di giustizia sportiva e quindi lì si è coperto tutto facciamo un bel patteggiamento così non andiamo a vedere non andiamo a aprire non apriamo questa scatola è così che operano stanno operando così per l'ennesima volta facciamo il patteggiamento così non andiamo oltre così non mi devi dire altro non devo scoprire altro vieni punito in due giorni e basta e finisce lì e sarà sarà compito dei giornalisti e dei giornali pure loro figuriamoci non lasciamo stare commentare semplicemente la pena che viene applicata giornali e giornalisti perché ripeto corona è corona sbaglia dei dettagli fa audience o non fa audience crea hype e poi alla fine non dice ma senza di lui la polizia a Coverciano quando ci sarebbe andata Tonali e Zaniolo quando sarebbero stati coinvolti Di Fagioli quando avremmo saputo dobbiamo chiederci questo se aspettavamo se avessimo aspettato gli altri giornali e giornalisti quanto tempo si sarebbe aspettato e quindi vedete che siamo usciti più torbidi o più rischiarati dopo questi ragionamenti secondo me più torbidi la situazione è molto più grave allora uno cosa dovrebbe fare penso che i tifosi di calcio dovrebbero protestare e qui non c'entra la Juventus l'Inter il Milan non c'entra protestare contro il sistema protestare contro questa metodologia della FIGC e questa metodologia quindi istituzionale giornalistica e non sto dicendo che hanno commesso degli illeciti sto dicendo che l'atteggiamento il comportamento è quello di coprire gli illeciti degli altri senza arrivare a delle sanzioni congrue non ci si ripulisce in questo modo tutti i tifosi di calcio dovrebbero protestare perché stanno rompendo il calcio stanno bucando il pallone per l'ennesima volta anzi il pallone è già bucato da parecchio forse adesso ci siamo accorti che è sgonfio però non si può riconfiare perché è bucato quindi è sgonfio perché è bucato e quindi non ci puoi giocare più e chi ha giocato il calcio vero nei cortili nei giardini e nelle piazze lo sa e nei vicoli lo sa e nei palazzetti e quando il pallone si buca addio ne devi andare a prendere un altro se ce l'hai e quindi che facciamo che dobbiamo fare si va avanti si va avanti a continuare a seguire il calcio perché è una passione che per qualcuno di noi è più antica della stessa scuola io sono appassionato di calcio da prima di imparare a leggere a scrivere e non sono l'unico si giocava prima con il pallone e poi si prendeva la penna in mano e quindi che fai continui a crederci continui a guardare continui a sperare però vigili e attenti e consapevoli che stanno distruggendo tutto e poi verrà fuori purtroppo purtroppo probabilmente verrà fuori la storia di qualche partita truccata e poi vedremo come la metteranno grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti per quanto c'è da dire e anche su discord link in descrizione con tanti spazi tante chat per parlare speriamo di calcio se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo con chi può essere interessato cogliete l'opportunità per iscrivervi al canale e attivare le notifiche così da non perdere i prossimi contenuti del canale abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi in live e nella community e seguitemi anche sul mio secondo canale youtube avsimout dal primo link in descrizione dove trovate video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre allegri out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti